Assessore, come sono andate queste prime fasi delle iscrizioni per l'anno futuro scolastico? I dati che le iscrizioni fatte a gennaio e febbraio ci consegnano per il prossimo anno, quindi per il 2018-2019, sono queste. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia abbiamo 421 iscrizioni rispetto alle 458 del 2017-2018, quindi una diminuzione complessiva sulla città di 37 iscrizioni, che noi interpretiamo attraverso da un lato un trend di flessione demografica che la nostra città conosce ormai da qualche anno, ma anche come effetto di medio periodo legato alla crisi economica che ha portato diversi nuclei familiari nel corso degli ultimi 10 anni a lasciare la nostra città. In questo senso, nella fascia dell'infanzia, noi stiamo tornando sostanzialmente ad assestarci sui dati che avevamo una quindicina di anni fa. In questo senso, però, è importante ricordare che questa flessione, che nell'insieme è abbastanza modesta, è ovviamente riferita a un dato complessivo dell'intera città e quindi non comporterà modifiche sostanziali rispetto all'organizzazione delle strutture scolastiche dell'infanzia. Invece abbiamo un segnale in controtendenza per quanto riguarda le iscrizioni alle sezioni ponte, cioè quei servizi di raccordo, in qualche modo, tra il nido tradizionale e la scuola dell'infanzia, rivolte alla fascia 24-36 mesi, e questa sperimentazione evidentemente ha funzionato, perché per la prima volta, dopo diversi anni, nelle sezioni ponte abbiamo un segnale di ripresa e quindi di crescita anche abbastanza significativa delle iscrizioni e questo comunque ci dimostra che al netto dei dati demografici, chiaramente, quando riusciamo a dare delle risposte pienamente aderenti alle aspettative e ai bisogni delle famiglie, la risposta delle iscrizioni c'è ed è una risposta positiva.